Annalisa, la famosa cantante italiana, ha finalmente baciato lui. Ma non è tutto. La star si è anche sposata in gran segreto ad Assisi, con il suo manager, Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Molti erano in attesa del matrimonio previsto per il primo luglio a Tellaro, un incantevole borgo in Liguria, la terra natia di Annalisa. Tuttavia, la regina dei tormentoni estivi, nota per it come Mon Amour, e disco Paradise, ha colto tutti di sorpresa anticipando le nozze. Nonostante il matrimonio si sia svolto in segreto, una festa allargata si terrà comunque a Tellaro, dove gli amici VIP della coppia avranno l'opportunità di festeggiare insieme agli sposi. Durante la cerimonia ad Assisi, erano presenti circa un centinaio di persone, creando un'atmosfera intima e riservata. Annalisa, con la sua voce unica e il talento innegabile, ha conquistato i cuori di molti fan nel corso degli anni. Ora, con questo matrimonio sorprendente, sembra che abbia conquistato anche il cuore del suo manager. Gli auguriamo i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita. E siamo curiosi di scoprire quale sarà la prossima sorpresa che ci riserverà la talentuosa artista.